Papà? Che vuoi? Come nascono i bambini? Mo che so ste domande? Sotto al cavolo arriva a Cicogne, Pia e gli consegna sicuramente molto più efficienti delle poster Ah quindi tu hai fatto sesso con una Cicogne? Scusa chi ti ha insegnato sta parola? L'ho letto sul tuo computer, mi si è aperta una pagina strana Ah e che tipo di pagina? Giovani casalinghi Ah e te mica hai cliccato sul video? No papà Ah beh, meno male Scherzo, l'ho visti tutti E ti pareva? C'era anche Zia Rossella in un video Faceva cose stranissime, strillava come una matta Sembrava che la stessero torturando, guarda Alla fine hanno iniziato a strillare tutti e due senza motivo E all'ultimo Zia Rossella si è messa in ginocchio per chiedere scusa a quell'uomo Però non capivo proprio che diceva, parlava strano lei Sicuramente gli stava a chiedere scusa perché lei ha sporcato i sedivi dalla panda Ah allora prometto che non ti sporcherò mai i sedivi Non voglio mica fare la fine di Zia Rossella eh Vabbè fammo che sta storia rimane tra me e te eh Papà, ma che lavoro fa Zia Rossella? Fa l'attrice, l'attrice si Eh si vede che è proprio brava e lo fa da tanto Interpreta proprio bene i ruoli Che ruolo scusa? È ruolo della mignotta Era quasi brava come l'ultima ragazza tua Io te giuro che il giorno di questi ti utilizzo come scopettino d'ercesso Grazie Grazie